Musica Buonasera e ritrovati ad una nuova edizione del TG di CronTV. Falsi matrimoni per eludere le leggi sull'immigrazione e quanto scoperto dai carabinieri di Piacenza in un giro che coinvolgeva anche Cremona. Sentiamo Bibiana Sudati. Quattro arresti e una ventina di indagati e questo è il bilancio dell'indagine dei carabinieri di Piacenza che hanno scoperto un giro di matrimoni civili finti che avevano per protagonisti cittadini stranieri. L'accusa è quella di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. In manette sono finiti italiani, residenti tra Castelvetro e Cremona, tra i quali una donna, marocchini e cinesi, questi ultimi titolari di un ristorante in città. L'indagine dell'arma è durata diversi mesi ed è partita da una segnalazione dei funzionari dello Stato civile di Castelvetro per poi estendersi anche ad altri comuni cremonesi. Non risulta alcun coinvolgimento degli impiegati amministrativi dei paesi dove i riti si sono celebrati. Dal quadro emerso pare che l'organizzazione fosse attiva da tempo e che anche il numero delle unioni di convenienza sia piuttosto elevato. Contorni ancora tutti da stabilire sui quali l'arma sta proseguendo l'indagine. La nuova viabilità al quartiere Po di Cremona dovrebbe partire il prossimo 27 marzo. In realtà i lavori sono già iniziati e di gran carriera, come le proteste del resto. All'interno del comitato di quartiere cerchi la mente di essere stato informato solo a cose fatte, protesta per un mancato coinvolgimento e osserva come le novità introdotte siano diverse da quelle davvero necessarie. In zona già oggi vi sono punti critici, in particolare la scuola, specie all'orario d'ingresso degli scolari, l'area prospicente alla chiesa e l'oratorio, luoghi dove la viabilità, la visuale o il traffico, pedoni e auto, possono comportare rischi. Tuttavia il nuovo assetto viabilistico, secondo i residenti, non andrebbe a risolvere tali situazioni. Prima di affrontare anche una piccola modifica all'interno di un quartiere popoloso come il villaggio Po, secondo me andavano fatte delle misurazioni. Bisognava sapere quante macchine entrano in via Olio da via Le Po, quante macchine escono, che giro fanno, quali sono le attività che ci sono nelle vie del quartiere. Un esempio, non si può pensare di mettere a isola pedonale una via dove c'è un ambulatorio medico che ha 9.000 pazienti, spesso anziani, che si rivolgono all'ambulatorio quasi settimanalmente. Il Comune ha effettuato rilevazioni o fornito date a supporto delle proprie scelte? No, io sono andato a chiedere in Comune, perché ero interessato a vedere questi studi, ma mi hanno detto che non era stato fatto niente. Tutto è partito dalle richieste di alcuni genitori della scuola che notavano che al mattino, in un particolare orario, si creavano dei disagi per il traffico eccessivo. Il dottor Zamboni invece si è fatto carico a proprie spese di commissionare all'ingegner Michele Minoia di San Donato, Milano, un apposito studio viabilistico proprio relativo alle modifiche introdotte. Studio in cui si legge testualmente, non sono chiare le motivazioni dell'intervento del Comune, inoltre sfuggere a necessitare la pedonalizzazione di via Ticino tra via Ade e via Olio, rende più difficile l'accesso alla farmacia e vicini ambulatori medici, in più le novità renderebbero ancora più critici i transiti in via Mincio davanti a parrocchia oratorio di Cristo Re, nonché all'intersezione tra via Mincio e via Lugo. Ma allora cosa propone questo studio? La soluzione sarebbe quella di cercare di innanzitutto mettere una segnaletica orizzontale efficace che individui bene i posti dove si può parcheggiare e dove non si può parcheggiare, dopodiché mettere anche dei dissuasori in modo che le macchine non possano avvicinarsi troppo agli incroci e alla scuola e infine continuare a chiudere la via Ticino, la via della scuola negli orari in cui c'è un maggiore accesso dei bambini. Smog, se ne è parlato, in Regione Lombardia il protocollo Aria fa acqua da tutte le parti, vediamo. In seguito al tavolo Aria convocato in Regione a Milano per fare il punto sull'attuazione del protocollo Aria per attuare misure temporanee omogenee durante i periodi di accumulo degli inquinanti ed aumento delle relative concentrazioni, sono emersi i limiti oggettivi del documento e la necessità di porvi dei correttivi. In particolare il problema maggiore è dato dal fatto che pochi comuni hanno aderito. In provincia di Cremona sono 8, ma a livello regionale solo 111 su 1.527, per un totale di appena 3,8 milioni di abitanti su oltre 10 milioni. Superare l'adesione volontaria da parte dei comuni è stata la richiesta espressa nel modo più pressante dai sindaci. L'assessore all'ambiente di Cremona Alessia Manfredini ha sottolineato come bisognerebbe migliorare la comunicazione ai cittadini con messaggi propositivi per aiutare a comprendere che le limitazioni vengono attuate a tutela della salute di tutti. L'assessore ha inoltre avanzato la proposta di rendere il trasporto pubblico locale gratuito nei giorni di superamento dei limiti, un'azione che Regione Lombardia potrebbe attuare in autonomia insieme ad altre misure strutturali come ad esempio l'efficientamento energetico e la sostituzione degli impianti più inquinanti, interventi che devono essere necessariamente messi in campo per migliorare la qualità dell'aria, che poi bastino è un'altra storia. Siamo alle notizie dall'Italia. Era un falso ordigno confezionato con due bombolette collegate ad un filo. Il presunto residuato bellico che trovato ai margini dei binari a Monfalcone ha causato la cancellazione del blocco dei treni tra Trieste e la stazione della città goriziana. Gli artificieri intervenuti sul posto del ritrovamento, una galleria della linea merci che porta allo scalo portuale, hanno fatto brillare poco prima delle ore 10 la falsa bomba. Restano i disagi per i viaggiatori sulla linea che porta al copo al luogo Giuliano. Le ferrovie hanno organizzato autobus sostitutivi tra Monfalcone e Trieste. Ventesima udienza del processo a carico di Giosuè Ruotolo, unico imputato per il duplice omicidio della coppia dei fidanzati Teresa Costanza e Trifone Ragone, uccisi la sera del 17 marzo 2015 nel parcheggio del palazzetto dello Spor di Pordenone. L'udienza si è tenuta in corte d'assise a Udine ed è stata dedicata ai consulenti delle parti civili. Siamo alle notizie dal mondo. È di almeno 50 morti. Il bilancio della l'attacco di mercoledì di un commando dell'ISIS al principale ospedale militare afgano di Kabul e di questi 38 sono membri delle forze di sicurezza e 12 sono civili. Secondo una fonte che non ha voluta essere identificata, i feriti sono stati 91 di cui 61 appartenenti all'esercito, polizia, forze speciali afghane. La Nuova Zelanda offre a 100 esperti ai TEC un viaggio gratis nel paese per poter partecipare ad un colloquio di lavoro. L'obiettivo delle autorità di Wellington è quello di potenziare le infrastrutture tecnologiche. L'offerta ha spinto alla candidatura 12 mila persone. Oltre un terzo delle richieste arriva dagli Stati Uniti. Siamo allo sport. Esordio positivo per Paolo Lorenzi e Fabio Fognini al torneo di Indian Wills in California. Primo ATP Master 1000 del 2017 dotato di un monte premi di 6 milioni 993 mila 450 dollari. Lorenzi numero 38 del ranking ha battuto 6-4-6-3 in un'ora e 23 minuti di gioco. L'olandese Robin Haas di 47esimo nella notte italiana. Si è complicata non poco invece la vita di Fognini. Il 29enne di Armaditaggio numero 43 del ranking ha battuto in rimonta con punteggio di 06-75-64 dopo due ore e 18 minuti di partita. Il russo Konstantin Kravchuk numero 96 del mondo. Questa per noi era l'ultima notizia. TG torna come sempre domani alle 20. A voi tutti un buon proseguimento di serata e buon weekend.